In primo piano Dopo 11 sedute il Consiglio regionale ha licenziato il testo unificato delle due proposte di deliberazione in cui si sostanzia il piano socio-sanitario con 33 voti favorevoli, 16 contrari e 5 assenuti, Udc e Italia dei Valori. Il confronto fra maggioranza e opposizione ha portato all'approvazione di circa 190 emendamenti. In tema sanitario l'Aula ha anche votato quattro ordini del giorno dell'opposizione. Respinti tre documenti ha provato all'unanimità il quarto che impegna la Giunta a valutare l'opportunità di costituire un fondo sanitario regionale integrativo.